Ben ritrovati e ben ritrovati, mi sono imbattuto in un articolo molto dettagliato e prezioso pubblicato da Calcio e Finanza con tanto di tabella riguardante il Montegaggi Lordo complessivo ovvero delle 20 società che su scala europea investono di più per quanto riguarda appunto il Montegaggi, il primo posto. C'è il Real Madrid, poi Bayern Monaco, Manchester City, Manchester United, il Paris, l'Arsenal, il Chelsea, il Barcellona, il Liverpool e poi dal decimo posto ecco le italiane. Al decimo l'Inter, al tredicesimo posto la Juventus e subito dietro al quattordicesimo il Milan. Quindi secondo sempre i dati riportati da Calcio e Finanza l'Inter investe circa 142 milioni lordi, mentre la Juventus è settata sui 118, approssimiamo per eccesso con il Milan dietro a 108. Sono numeri importanti, numeri che ci fanno capire innanzitutto come ci sia un grandissimo divario con i top team perché il Real Madrid è a 271, il Bayern 270, il City ha 2,36 quindi si parte con un 2 e noi invece con, no intendo calcio italiano, con un 1. Però la Juve per tanti anni ha dominato questa classifica in Italia anche con una politica a mio modo di vedere scriteriata perché ci sta dare anche importanti ingaggi a calciatori che ti spostano, in generale che sono apicali nello sviluppo del tuo progetto. Ok? Devi dare loro quei soldi altrimenti non riesci a trattenerli. Il problema quando è iniziato, quando la Juventus al quinto centrale ha iniziato a dare 3 milioni netti. Non me ne voglia Daniele Rugani che è un ragazzo molto professionale e che poi tra l'altro anche con un certo senso di appartenenza ha deciso di rivedere il suo stipendio abbassandoselo drasticamente ma le vede del mercato sono infinite e a distanza di poche settimane dal rinnovo la Juventus ha deciso di metterlo sul mercato perché non rientrava nel progetto tecnico di Tiago Molta tant'è che ora è all'Ajax. Quindi, innanzitutto cosa ci dice questa tabella di calcio e finanza? Che la Juventus sta cavalcando una politica di sostenibilità. Sta cercando di abbassare di stagione in stagione determinati ingaggi. Io dico sempre potare dei rami secchi. Non commettiamo l'errore di far passare il messaggio che la Juventus abbia intrapreso la via del salari capo, che comunque abbia un tetto massimo. A mio modo di vedere non è così perché la Juve può permettersi determinati investimenti avendo le spalle ben coperte e sono altre le società che fanno fatica. Cioè la Juve, comunque anche spalleggiata dal gruppo, non tantissimo tempo fa nel mercato di gennaio ha investito oltre 80 milioni per Dujan Vlaovic facendogli firmare un contratto a salire che arriva a 12 netti. Occhio! Non sto dicendo che questa politica sia corretta. Anzi, col seno di poi, credo che se ci fossero gli attuali dirigenti a prendere le decisioni di rito un investimento di questo tipo non sarebbe stato fatto. Dico però che un investimento di questo tipo ci sottolinea come la Juventus abbia le capacità e le possibilità di poter portare a casa determinate operazioni. Quella simbolo, quella targata Cristiano Ronaldo, 101 milioni a Real Madrid, 31 netti il giocatore. Anche qui non sto dicendo che sia stato giusto. Dico solo che sono prove di forza e in generale anche di ambizione. perché poi molte volte ti becchi le critiche però io dico sempre che quando è arrivato Cristiano Ronaldo abbiamo sognato ed è stato bello vederlo in bianco e nero. Non è andata come sarebbe dovuto andare anche complice il Covid che ha penalizzato fortemente questo investimento perché per un anno e mezzo Cristiano Ronaldo non siamo riusciti a proporlo allo stadio in termini di botteghino e quant'altro. Però nel tempo la Juve, commettendo anche i suoi errori, ha dimostrato di poter spendere. Ora la politica è di grande sostenibilità che però anche qui non significa che la Juventus non possa portare avanti determinati investimenti è una società che qualche mese fa ha investito 53 milioni aiutatemi voi, più bonus per portare Copmainers a Torino. Insomma è un discorso che poi adesso non voglio avventurarmi in determinate dinamiche finanziarie perché sono la persona meno indicata e come voi cerco di documentarmi Ascoltando poi le persone che ne sanno Non è tanto quanto spendi di cartellino e l'ingaggio specialmente nel calcio moderno ha pesare tantissimo perché puoi spendere 20 milioni per prendere Turam però se gli fai un contratto da due e mezzo netti risparmi rispetto a darne 7 d'ingaggio all'Adrien Rabiot di turno e qui la Juve sicuramente ha intrapreso una nuova via con Cristiano Giuntoli con questo staff dirigenziale per staff dirigenziale intendo poi anche la supervisione della D Maurizio Scanavino che se vogliamo volgarmente definire l'uomo dei conti quello fa però non possiamo più sentire adesso quella fila strocca ma voi dovete vincere perché avete il monte in gaggi più alto in Serie A no, la Juve deve vincere per estrazione, per DNA in generale per blasone e storia ma l'obbligo vero, se uno dovesse analizzare unicamente freddamente i numeri c'è la proprio l'Inter che spende quasi 142 milioni a detta di calcio e finanza in termini di ingaggi lordi sono tanti, sono tanti credo che la Juve nell'ultima campagna qui si estiva non sia andata oltre i 4 e mezzo di Coop ecco, probabilmente ora quello è riferimento attuale per fare in modo che poi si possa arrivare al grande obiettivo che lo sapete, ve lo dico da mesi e cercare di arrivare al pareggio di bilancio per la stagione 2026-2027 considerando l'ultimo rosso facendo anche una previsione che adesso non si può ancora fare ma molto astratta con il rientro in Champions i botteghini, magari fa anche più strada in Champions la Juventus farà passi da gigante cioè se analizzeremo poi quello che la Juve proporrà a giugno 2025 sicuramente i conti inizieranno, no? non dico totalmente a sorridere ma quantomeno a fare l'occhiolino quindi non dimentichiamo, non sottovalutiamo questo aspetto cioè come la Juventus stia cercando di essere competitiva ma anche più sostenibile ed è questa la grandissima missione affidata nei pensieri nelle mani, nelle decisioni di Cristiano Giuntoli io non credo sia semplicissimo fare quello che ha fatto lui nell'ultima estate è chiaro, poi ora ci mettiamo a analizzare l'organico e ci sono ancora delle lacune e speriamo di sistemarne alcune nel mercato di gennaio penso al difensore centrale Alvice Vlaovic ma devo dire che in generale pur essendo sempre bonipertiano a livello di motto perché bisogna vincere e vedere questa tabella e capire il lavorone fatto in termini di sostenibilità non è roba di poco conto attenzione io non faccio il Puma scoperto per le vie di Torino alzando il trofeo della sostenibilità no, io faccio il Puma scoperto per le vie di Torino se alzo uno scudetto e se dovesse cadere ancora dico ancora perché ci manca tanto tempo qualcosa di bello a livello europeo quindi non faccio il tifo io credo che il tifoso è giusto che poi ragioni in base a ciò che la squadra ti riesce a trasmettere in termini di trofei perché la Juventus ragiona così ma è anche intrigante cercare di capire il percorso intrapreso il tragitto e la Juve ha messo alla porta tanti giocatori che comunque occupavano uno spazio salariale imponente non è stato rinnovato il contratto di Alexandro non è stato rinnovato il contratto di Adrian Rabiot è stato messo alla porta a Scesni e qua un po' la fortuna poi ho voluto che andando al Barcellona facesse in modo che si potesse risparmiare molto in termini di buon'uscita e sicuramente ci sono state altre situazioni che non mi vengono in mente quindi si sta cercando no? di liberare spazio soprattutto per giocatori che a livello di stimolo a livello tecnico non hanno più nulla da dare e come ben sappiamo la potenza di fuoco si basa molto sul costo anno su ciò che riesci a liberare per fare in modo che tu possa anche spendere tot ed esporti in termini di cartellino ma devi avere degli ingaggi che se i calciatori da te non funzionano altrove li riesci a collocare facilmente cioè faccio un altro esempio che è proprio una chiave di sostenibilità Daniele Rugani se avesse ancora guadagnato 3 milioni netti o quello che percepiva più o meno saresti riuscito a piazzarlo così all'Ajax no sarebbe potuto andare all'Ajax se tu gli avessi pagato il 60-70% magari dell'ingaggio con Rugani che va a guadagnare decisamente meno la metà e l'Ajax decide di accollarsi interamente a quell'ingaggio questa è sostenibilità e anche nella malaugurata ipotesi che determinate a cui si estivi 2024 non sorridano cioè in termini di performance un conto è provare a piazzare un giocatore che guadagna 8, 9, 10 milioni netti un altro è provare a piazzarne uno che ne guadagna 4 sto proprio parlando di Douglas Lewis ma non voglio arrivare lì perché spero davvero che questo ragazzo si possa prendere la Juve se la deve prendere è un grande giocatore ecco quindi intendiamoci su questo e cerchiamo di capire concretamente che passi siano stati intrapresi dalla Juventus Football Club grazie a tutti